Ben trovati per l'edizione di Metta Pomeriggio, il nostro TG Noi giorno, dunque è iniziata la pacifica invasione della città di Lucca, sono iniziati i comics, secondo giorno, ci colleghiamo in diretta con la nostra troupe, cerchiamo di capire dove? Grazie Giulio, mi trovo sulle mura storiche di Lucca, come potete vedere ci sono migliaia di appassionati e di visitatori alla seconda giornata di Lucca Comics e Games, è una bellissima giornata, sono previste oltre 40.000 presenze, quindi un numero decisamente superiore a quelle che hanno caratterizzato la giornata inaugurale. Grandissima attesa per Squid Game 2, è in corso in questo momento la conferenza stampa al Teatro del Giglio con il creatore e gli attori protagonisti della serie televisiva più seguita nella storia di Netflix che uscirà il prossimo 26 dicembre. Durante questa giornata ci saranno anche altri eventi a tema Squid Game come un raduno proprio per celebrare la prossima stagione. A voi la linea. Grazie Giacomo, proseguiamo con i Comics edizione 2024, come sempre con una propagine anche su Via Reggio, sul bel vedere delle maschere, aperta all'Arcadia Experience dedicata alla storia dei videogiochi. Dalle loro origini nei lontani anni 50 fino ai titoli più iconici che hanno caratterizzato le sale giochi ed i bar degli anni 80 e 90. Un vero e proprio tuffo nel passato e nella storia dei videogiochi è quello che il Luca Comics & Games, grazie alla collaborazione con PG e eSport, ha allestito a Via Reggio sul bel vedere delle maschere, nella rinnovata collaborazione tra le due città in occasione degli eventi più significativi, i Comics appunto e il Carnevale. A noi interessa stare dentro la partita dei Comics, Via Reggio credo che sia molto grata a questa collaborazione perché permette di sviluppare un lavoro nuovo su un'attività che era concentrata soltanto sulla città di Lucca. Bene, noi vogliamo allargarci, lo abbiamo già dimostrato durante il Carnevale, noi siamo andati a trovare la città di Lucca e oggi la città di Lucca viene a trovare Via Reggio. Vogliamo siglare sempre di più con uno stand ancora più bello, vista mare, cosa che a Lucca purtroppo ci manca, però la collaborazione con Via Reggio è una sinergia importante da tanti punti di vista, quello turistico, quella delle collaborazioni, quella degli eventi. L'ha appena detto, Luca Comics viene a Via Reggio e il Carnevale viene a Lucca e su questo credo che sia un passo avanti tra le nostre due amministrazioni. Dopo la prima edizione dello scorso anno in cui era stato privilegiato il lato commerciale della manifestazione, quest'anno si è voluto puntare sul coinvolgimento del pubblico in un'area experience rinnovata e vista mare. Crediamo che sia molto interessante far apprezzare agli utenti, agli visitatori, quelle che sono le origini dei giochi che ora sono più apprezzati da tutti quanti e questo è anche grazie a un importante come PG e Sport che ovviamente ha attrezzato, allestito e preparato questo bellissimo padiglione che fra l'altro permette anche, oltre ad apprezzare la storia del videodoco, anche quella di vedere il bellissimo paesaggio del mare visto che è un padiglione aperto. Adesso la cronaca, tanto spavento, per fortuna nessuna grave conseguenza per un incidente avvenuto intorno alle 10 di questa mattina in via di Tempagnano a Lucca, una bambina di due anni mentre era con la madre è caduta dalla bicicletta, la piccola in forte stato di agitazione è stata accompagnata in codice giallo con l'elicottero Pegaso del 118 al Meyer di Firenze ma solo per controlli sul posto anche automedica e un'ambulanza della Croce Verde di Lucca. Stop ai camminetti in tutta la piana di Lucca dal 1 novembre. Stop all'uso di camminetti, stufe a legna e generatori di calore a biomasse nei 14 comuni della piana tra Lucca e Pistoia dove è anche vietato l'abbruciamento di sfalci e potatura all'aperto. Torna la contestata ordinanza regionale per ridurre la presenza di inquinamento da polveri sottili nelle aree più critiche, valida dal 1 novembre fino al 31 marzo. I comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni di PM10 sono tutti compresi in quella che viene definita area di superamento. Alto Pascio, Bugiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Lucca, Massa e Cozzile, Monte Carlo, Monte Catini Terme, Monsummano Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Bugianese, Porcari e Uzzano. Il divieto di utilizzo di generatori di calore a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a tre stelle è valido a meno che questo non costituisca l'unico impianto di riscaldamento dell'abitazione. L'ordinanza introduce anche il limite a 18 gradi per le temperature medie nelle abitazioni e negli edifici pubblici fatta a eccezione per le strutture sanitarie. Dal 1 novembre sarà attivo sul sito dell'ARPAT un servizio che indica il livello dell'indice di criticità della qualità dell'aria sulla base del quale i comuni sono chiamati ad emettere provvedimenti ad hoc. Ci avviciniamo alla celebrazione dei defunti e Coldiretti lancia l'allarme sulla crisi del crisantemo anche se rimane il fiore più regalato ai defunti. Un allarme sulla concorrenza sleale che arriva da paesi dove si usano pesticidi e manodopere regolare. Il crisantemo, fiore simbolo della festa dei morti, è in crisi. Una domanda sempre più fiacca da parte del mercato e di crescenti costi di produzione che i floricoltori devono sopportare lungo l'arco dei sei mesi, tanti ne occorrono per allevare il fiore prima di essere commercializzato, hanno ridotto di almeno il 15% la produzione. A dirlo sono Coldiretti Toscana e l'Associazione Nazionale Fioristi e Floricoltori Italiani. La ricorrenza del 2 novembre è un momento molto importante per le aziende florovivaistiche che vale fino a un quinto del loro fatturato, spiega Coldiretti. La coltivazione dei fiori di ogni santi ha in Toscana, tra Lucca, la Costa Puana e Pescia, il suo principale polo produttivo dove vengono coltivati da oltre 200 aziende specializzate, poco meno di 5 milioni di steli fiore destinati a questo particolare periodo. La difficoltà a reperire mano d'opera per una coltivazione impegnativa, l'incidenza dei costi energetici, la presenza crescente di fitopatogeni e la concorrenza sleale e selvaggia hanno portato nel corso degli anni ad una progressiva riduzione della produzione toscana. Malgrado le criticità, il crisantemo sarà il fiore più regalato in questi giorni. Se però fino a qualche anno fa era l'indiscusso protagonista nei cimiteri, negli ultimi anni si sono fatte largo altre varietà. Secondo Coldiretti, tre toscani su quattro porteranno fiori ai propri defunti. Per evitare di alimentare la concorrenza sleale di paesi che impiegano mano d'opera irregolare e abusano di pesticidi, Coldiretti e Affi invitano a preferire le coltivazioni locali per sostenere un settore che vale 900 milioni di euro. L'archivio di foto al Cida Lucca, storico studio fotografico della città, entra a far parte dell'archivio fotografico lucchese grazie all'iniziativa di Comune e Fondazione Cassa dell'Isparmio di Lucca. L'archivio storico di foto al Cida, protagonista della mostra Lucca e le istituzioni 75 anni di storia per immagini con oltre 20.000 visitatori all'attivo, entra interamente a far parte dell'archivio fotografico lucchese. La decisione su input diretto del sindaco Mario Pardini è stata presa dal Comune che in questo modo entra in possesso del prezioso materiale che documenta 75 anni di storia della città dal 1949 ai giorni nostri insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. I due enti acquisiranno di fatto ciascuno la metà dell'archivio storico di foto al Cida che a sua volta confluirà nel più vasto archivio fotografico lucchese di proprietà del Comune che già raccoglie i due fondi principali dei fotografi cortopassi e ghilardi e che nel corso degli anni è stato arricchito da altro materiale fino ad arrivare a 650.000 immagini nel territorio di Lucca. Si tratta di un passaggio culturale di notevole interesse per la città che finalmente riunisce in un unico grande archivio a disposizione di tutti il lavoro di documentazione realizzato dai tre principali studi fotografici storici cittadini. Torniamo a Viereggio, si riapre il dialogo tra l'amministrazione comunale e i sindacati. Una firma che si può definire per certi versi storica per Viereggio è quella del protocollo d'intesa che l'amministrazione comunale ha firmato insieme ai sindacati per la realizzazione di un insieme di iniziative da intraprendere nel campo del sociale. Storica dicevamo perché di fatto sancisce la riapertura del dialogo tra il comune e le parti sociali, dialogo che si era interrotto da diversi anni anche a causa del dissesto dell'ente. Adesso invece i percorsi che procedevano in parallelo ma senza un punto di discussione potranno procedere in maniera organica per affrontare i temi legati alle politiche sociali, sanitarie di genere e soprattutto abitative. Un protocollo che, ha sottolineato il sindaco, ha una doppia valenza. Diciamo che le parti rilevanti di questo accordo sono due. Una concreta, cioè le cose da fare, la collaborazione che le parti sociali sindacati avranno con l'amministrazione comunale e hanno avuto in questo anno di predisposizione di questo protocollo d'intesa che è una cosa veramente seria e ripeto molto concreta. Il secondo elemento è, come giustamente lei diceva, i rinnovati rapporti di vicinanza tra l'amministrazione comunale e le parti sociali che si svilupperanno ulteriormente con un apposito calendario nei prossimi mesi. La questione casa è stato uno degli argomenti centrali discussi con i sindacati, con il primo cittadino che ha sottolineato come il comune abbia proseguito con l'erogazione dei contributi in conto affitto nonostante la loro abolizione da parte del governo e come Viareggio abbia uno dei patrimoni immobiliari destinati al sociale più elevato della regione. Per il futuro è prevista anche la realizzazione di un condominio sociale da destinare a 16 unità abitative in un immobile già di proprietà del comune in via delle catene. Dopo l'inaugurazione della rinnovata casina dei ricordi a Viareggio, i ricordi della strage, della drammatica strage della stazione ferroviaria, abbiamo visto dopo i vandalismi che è tornata nuova vita grazie anche a tanti bambini, i familiari delle vittime come ogni 29 del mese si sono ritrovati per sollecitare le motivazioni della Cassazione che ha chiuso il processo. A 184 mesi dalla strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno del 2009, 32 vittime, numerosi feriti e ustionati ingenti danni, i familiari continuano ad andare alla casina dei ricordi ogni 29 del mese per non dimenticare. Con loro c'era questa volta alcuna rappresentanza dei bagnini viareggini. Stavolta vogliono inoltre sollecitare la Corte di Cassazione ad emettere le motivazioni della sentenza sull'appello bis. Siamo ancora qua perché comunque il procedimento penale non è ancora terminato, scrivono in una nota. È necessario l'appello terra, il sesto grado di giudizio per bene a quantificare le pene per i colpevoli, tradotto non vogliono proprio mandarli in galera. Allora chiediamo dove si trovano le motivazioni della seconda Cassazione, il quinto grado di giudizio dove viene sancita e ribadita la colpevolezza degli imputati. Sono arrivate a Firenze? Se sì, sono state calendarizzate oppure sono sempre a Roma? Sappiamo bene e continuano che nel prossimo appello i nostri avvocati non avranno voce in capitolo, ma noi ci saremo comunque per vigilare perché la cosa ci riguarda ancora, perché non è ancora finita e noi vogliamo e dobbiamo vedere la fine. È previsto inoltre a breve anche un presidio di fronte al Tribunale di Firenze. Barga Castagna 2024, quattro giorni dedicati all'oro della valle, la Castagna, partecipatissima e tradizionale festa che a Barga con tutta la cittadina dedica alla Castagna, alla lavorazione, alla produzione della farina dolce e le specialità che ne derivano. Prende il via dal 31 ottobre al 3 novembre Barga Castagna, la partecipatissima ed ormai tradizionale quattro giorni barghigiana che la cittadina dedica alla Castagna, alla sua lavorazione per la produzione della farina dolce e alle specialità che ne derivano. L'appuntamento promosso da Proloco Barga e Comune di Barga in Piazza Pasco. Qui si potranno trovare mondine, necci, castagnaccio, bombonecce e frittelle di farina dolce, insomma tutte le prelibatezze a base di castagne che tutti i pomeriggi e le sere saranno a disposizione del pubblico. Inoltre ci sarà anche il pranzo in piazza nei giorni del 1 e 3 novembre e la cena in piazza il 31 ottobre, il 1 e 2 novembre. Saranno tante anche le iniziative collaterali a cominciare dalla seguita e da guerrita gara dei mondinari che si terrà il 2 novembre alle 17 e 30. La competizione rende omaggio ad una tradizione del territorio, cuocere le castagne sul fuoco vivo con la classica padella coi buchi. Operazione non da tutti ai giorni nostri, anche se un tempo questa era la quotidianità. Una competizione dove solitamente hanno la meglio gli abitanti della montagna dove la tradizione è più forte, ma non mancano anche gli outsider. Sempre il 2 novembre Bargo ospiterà anche il concorso nazionale di dolce a base di castagne e farina di castagne. Tra le altre proposte musica dal vivo tutte le sere e mercatino in piazza il 1 e 3 novembre. È tutto per la prima parte del telegiornale, adesso ci fermiamo e tra poco c'è lo sport. Vi ricordo in primo piano la sintesi della gara fra Entel e Lucchese terminata 0 a 0 nel posticipo di Serie C di Alisera.